bene eccoci qua penso che siamo giunti un attimino all'epilogo del nuovo kit che metterò in essere per pochi ovviamente perché io non sono un produttore seriale e quindi non me ne può fregare di meno di numeri e dei quantitativi e di lecare il culo praticamente come fanno certi personaggi che pur di vendere si sbragano su internet ma non lo so insomma ognuno ognuno si vende un po la sua maniera e io non ho nessuna necessità e tantomeno voglia di vendere il carlo di vendermi come immagine perché proprio non me ne può fregare di meno allora qui ho realizzato delle bobine con diametro 1 e 15 1 e 20 con il doppio isolamento 1,2 dunque di conseguenza piuttosto corposi né ora qui lasciate stare i numeri che 39 40 41 46 40 38 eccetera eccetera oppure 54 oppure questi numeri un po strani 38 102 perché questi qua sono prodotti già che avevo la bobinatrice impiantata ho detto aspetta un attimo che svolgo alcune mansioni per persone che conosco che mi hanno chiesto le bobine qui c'è addirittura una 1 e 57 che peserà a minimo 3 etti ecco e poi una gloriosa ultra gloriosa produzione degli anni 70 dei quali ho ancora un 500 rocchetti che adesso anche di questi qua è un color grigio cenerino chiaro che dire che è leggermente diverso dal bianco e questi qui erano i crossover che facevamo per le casse dell'epoca e e tuttora adesso avendo ancora un bel po di rocchetti comincerò a fare una piccola produzione di bobine e di filtrini adeguati a dei kit eccetera anche ambientati su questi su queste bobinette che sono piuttosto carine oltretutto questo qui è un poli vinile che praticamente che può essere verniciato anche dunque si può farlo diventare rosso giallo celeste marrone viola e via dicendo bene voi siete sempre stati abituati a vedere i miei filtri fatti più o meno così oppure così oppure in kit con la basettina in faesite bianco o nocciola dalla parte opposta perché se volete ricreare un ambiente americano tipico anni 70 tipo ar eccetera eccetera o alte o roba di questo tipo la girata dalla parte nocciolina se volete invece fare una cosa neutra la girata dalla parte bianca e buonanotte al fischio insomma non è che ci siano grandi problemi niente woofer da 300 millimetri 125 watt nominali 250 massimi 45 3000 hertz di frequenza adesso siccome che ho messo in non dico in produzione perché non li ho fatti io ma ho ho aglietato diciamo così le caratteristiche dei twitter piezo in modo da farli diventare ancora una sacralità anni 80 anni 90 assieme a questi woofer qua che questi woofer qui sono già muniti di come si vede e oltretutto come il mio solito quando io faccio questi lavori non monto la roba che trovate su amazon ma ottone tornito e nichelato e costano non poco questi signori qua ecco poi la mia cura è sempre di fornire come presa diciamo dall'amplificatore morsetti diciamo onestissimi al quale aggiungiamo questa volta delle bobine un attimino degne di nota insomma bene questo kit qua che saranno due trombe due woofer due bobine per i woofer perché si entra allora si entra da una parte così e si esce dall'altra sul più e si va direttamente sul più il meno andate dritti al morsetto ora praticamente qui vi attaccate al più dalla parte opposta vi attaccate al più del woofer il nero lo attaccate direttamente qua e avete un meno 6 db eccetera eccetera io non sto qui a elencare a elencare le caratteristiche però ci sono i soliti coglioni no che vogliono copiarmi e vogliono ma sì ma quanti litri perché ci sono soprattutto quegli ignoranti no di ragazzotti un po imbecillotti no che praticamente si affacciano ma sì ma quanti litri la cassa ma poi non hai spiegato molto bene quanto è la porta reflex ma ora loro pensano di essere indottrinati sviolinati e con questo girarci intorno di carpire ecco andate dei vostri dottori professori ingegneri a farvi dare queste informazioni che loro ve le danno a pagamento io a pagamento non do niente do solo i kit ora chi compra il kit ha già a disposizione tutto quello che gli serve progetto incluso anche anche in questo caso qui woofer da 30 e tutto quanto oltretutto avendo anche bobine di natura un attimino più eccola qua se voi guardate i diametri delle bobine standard di questi qua vedete subito che è il doppio esatto quindi ha detto mettiamoci una di queste qui che faccio di solito eccolo qua ecco quindi qui abbiamo potenza di oltre 100 watt rms capisco che dopo ci sono i soliti rimbambiti chiamiamoli così che loro se la cassa non è da 500 da 1000 watt coi doppi sonni doppi coni da 38 il woofer da quel sub da 45 due finali da 1000 watt rms in casa su una stanza di 3 metri per 4 a un certo punto io capisco che c'è che c'è la porcheria dell'esaltazione che funziona piuttosto bene in italia no qui non ci si esalta qui non siamo tele venditori qui non siamo tele promotori qui non siamo influencer qui non siamo quelli che sparano cifre da capogiro gratis voi in casa se abitate in un condominio o in un appartamento anche su una villa privata quando è che mettete un amplificatore un impianto a 100 watt per canale in casa a piena potenza mai quindi di conseguenza inutile chiedere casse di 500 watt 2000 watt 800 watt doppio cono da 38 sub da 45 trombe da 3 pollici allora questa esaltazione qua ci sono già alcuni personaggi che vi indottrinano su queste cose che vi dicono che 3000 watt rms potete averli anche nell'antibagno qui a casa mia nell'antibagno non esiste che uno si mette i 3000 watt insomma ecco con certi impianti ma in sala un 100 watt rms per canale va più che bene quindi ecco quindi siamo lì e col coso adesso c'è qua una che ci sono tre quattro persone che stanno passando che che sembra che sia il mercato intero qua vabbè dai non ci sono problemi ecco e di conseguenza è così la faccenda ecco ora dunque allora i nostri twitter piezo rivalutati rimessi in ordine come a dio comanda trombe questi qui sono in polibutilene cos'è il polibutilene che nessuno sa cosa sia il polibutilene il polibutilene non è altro che un composto agglomerato di diciamo che sarebbe un derivato della moplain diciamo un po dopo rielaborato ed è quello che trovate nei tubi neri adesso andiamo qui che siccome che deve venire giardiniere perché qui se avete visto insomma qua c'è da tosare il giardino avete presente voi i tubi dell'acqua eccoli qua questi qui quelli che vi monta l'idraulico o quelli che quanto quei rotoloni grossi che di solito il comune quando fa le le tubazioni quando scava ecco quelli quelli è polibutilene che è una sostanza che resiste a pressioni altissime resiste a temperature fino a 80 90 gradi hanno una tenacia e una micro deformabilità di adattamento che di fatti i rotoli quando li srotolate per fare gli impianti avete visto che si srotola il tubo no ovviamente potete mica piegarlo a 90 gradi se non si spacca dunque queste trombe qua sono fatte della stessa pasta di dei tubi dell'acqua potabile che si chiama polibutilene che sarebbero anche le casse mie professionali quelle che uso quelle che voi le chiamate in plastica che si mettono sopra i tre piedi che vanno nelle piazze lo stesso polibutilene lo usa la rcf e anche la fbt per fare le casse quelle che voi chiamate plastica che invece di plastica non hanno niente non hanno in comune con la plastica sono tutta un'altra roba bene allora abbiamo visto woofer da 300 caratteristiche quando non scrivo 200 e 400 o 300 o 600 o 500 o 1000 perché è idiota scrivere quelle cifre mettiamo le potenze reali e che sia chiude lo discorso 125 watt rms costanti e 250 di picco dunque se voi avete anche finali fino a 200 watt per canale queste qui vi vanno più che bene se avete amplificatori da 50 60 70 watt vanno più che bene perché questi qui rasentano i 96 98 db e quando ci mettete qualche 10 o 15 watt in più arrivano anche a 100 db come pressione sonora dunque avere 100 watt rms con 100 db in casa è il triplo di quello che vi fornisce qualsiasi negoziante o qualsiasi venditore bene allora abbiamo visto le bobinette che sono che non sono quelle classiche che io faccio nei kit eccetera eccetera qui siamo su un altro pianeta né però il discorso che qui non è che perché siamo su un altro pianeta vadano valgano poco diciamo che sono adatte per fare i loro scopi questi qui sono adatte per fare questi scopi ora queste due qui le ho tirate fuori da eccole qua allora perché trovate 39 40 41 43 50 38 perché sono i lotti che sto facendo e anche se faccio solo 4 o 5 bobine per ogni lotto lo classifico per il lotto che è qui lotto 38 102 perché questo qui è un cliente che aveva già delle casse eccetera eccetera e ha voluto aggiungerne altre due su un locale dunque un filtro di crossover ce l'aveva già e gli mancava il secondo filtro di crossover che faceva parte del mio lotto di una ventina di anni fa che era 38 102 e gli ho fatto la sua bobina 38 102 basta che io uso sempre sulle stesse bobine dell'epoca perché io queste bobine qua se uno va a ritroso quando ero in quella posizione lì avevo dei scatoloni grande come quelli pieni di rocchetti di tutti i tipi da 5 centimetri fino a 12 centimetri e alti da 12 centimetri fino a 40 da 12 millimetri scusate fino a 40 millimetri perché questi rocchetti qua ce li ho anche alti circa 5 centimetri perché quando io faccio i filtri per i sub passivi da 150 hertz ci occorrono pacchi da mezzo chilo 600 grammi di rame di avvolgimento ecco spiegato il motivo per cui ci sono i vari diametri le varie sezioni le varie altezze e io avendo la macchina che incastella 27 millimetri con il trasportatore che sarebbero questi due eccoli qua questi due taglietti qui sono quelli che si ingancia la bobina e fa da trasporto in modo da avvolgere il filo di rame così ne avete imparata un'altra che a voi interessa poco però a me interessa perché insomma c'è questa macchina insomma questa quella grande da laboratorio mentre invece quella piccola che mi sono autocostruito e che la uso di solito in giardino uso rocchetti fino a 60 70 millimetri quindi siamo su 86 millimetri di diametro bene caratteristiche 125 watt rms 98 db di media che arrivano tranquillamente a 100 db se sono leggermente arieggiate con l'amplificatore adatti amplificatori adatti non è che ci sia un amplificatore apposta per queste casse ma amplificatori insomma pre finali magari da 100 watt rms 120 watt rms per canale e van più che bene insomma dopo se uno dice io sono uno sborone c'ho il macintosh da 200 watt e se non ho le casse da 20 bene andate a spendere 25 mila euro di casse andate buttatevi anche nel lago fate fate una nuotata dentro il letamaio dei maiali che per voi a me non me ne può fregare di meno io sto parlando di gente che ragiona col cervello e che si alza la mattina alle 8 per andare a lavorare per prendere 1500 euro al mese o 1200 non sto parlando di gente che rovina il prossimo per avere centinaia o decine di migliaia di euro da spendere in moto in macchine o in pianti audio perché lì siamo sull'ordine della esaltazione di gente che io io sono un deficiente che non vale un cazzo però inculando la gente ho a disposizione quei soldi là ma indubbiamente ma ne conosco qua a Sirmione due tre commercialisti che uno è finito in galera anche perché camuffava e dopo si faceva dare 3.000 5.000 8.000 euro all'anno di mancia da da ogni cliente e lui fatturava faceva passare i due 300 500 mila euro di guadagno di un imprenditore li faceva passare come se ne avesse presi solo 120.000 dopo alla fine hanno scoperto che questo signore imprenditori questi cinque o sei imprenditori portavano a casa quasi 4 500 mila euro e siccome che il commercialista con le leggi del 2020 pagano la penale giudiziaria in solido con il cliente ecco questa qui mettetevela anche questa adesso ne sapete un'altra perché anche il commercialista che dichiara il falso va in galera esattamente finisce nella penale come il suo cliente quindi quei signori lì che guadagnano 4 500 mila euro che possono spendere 50 mila euro di impianto non sono la mia clientela dovete rivolgervi a qualche altro personaggio la mia clientela sono le persone che si alzano la mattina si tirano sulle maniche vanno a lavorare fanno fatica arrivare a sera e io gli do delle aggiunte nel senso che gli faccio avere del materiale molto maggiore delle casse che vanno vendute a 3 4 5 mila euro nei negozi come materiale interno poi come uno è capace di farsi o meno la cassa quelli purtroppo sono problemini suoi cioè io gli do materiale discretamente buono per non dire ottimo per il prezzo perché il kit completo saremo dentro i 200 euro spedizione compresa qualcosina meno probabilmente dei 200 euro però qui vi trovate due bufe da 30 due bobine che queste qua nessuno ve le fa per meno di 15 euro l'una ma nessuno andate tranquilli che nessuno vi cioè qui ci sono anche perché qui ho messo solo il morsetto e la bobina ma dopo ci sarà la sua basetta ci sarà tutto questo qui un'anteprima chiamiamola così no e poi ci saranno anche tutti i cavalieri cavallotti i morsettini e tutti gli occhielli a stringere ci sarà tutto perché questa volta qui lo fornisco completo di occhielli di tutto in modo che uno tranne che farci la cassa in legno non deve scomodarsi e soprattutto avrà bisogno del saldatore solo per saldare questo signore qua che io gli ho già spelato in parte ma voi per spelarlo basta solo che prendete una forbice eccetera eccetera grattate via un attimino la perché tanti mi hanno chiesto mi hanno detto non si salda lo stagno c'è il rame allora il rame rivestito non si stagna il rivestimento si stagna il rame quindi va fino a un centimetro due va spellato va tirata via praticamente la patina che hanno fatto di isolante basta e dopo comincerà a saldarsi come tutti quanti perché sotto è rame e sotto e sopra è plastificato quindi questo è il motivo per cui se voi prendete un filo smaltato non si salda perché dovete tirare via la smaltatura almeno per un centimetro in modo da ottenere il rame puro a vista ecco e dopo lo potete saldare ecco questa è un'altra cosa che molti non sanno allora quando uno si dedica all'autocostruzione e non sa neanche i parametri fondamentali che un filo smaltato deve essere scortecciato chiamiamolo così per un centimetro per essere saldato non è capace di usare il saldatore a chi mi devo rivolgere per fare la cassa in legno allora non siete autocostruttori a voi è semplicemente basta un solo cacciavite e pensate che con quello di risolvere tutti i problemi invece l'autocostruzione è leggermente diversa bene abbiamo visto un'altra parata di kit adesso mi stanno arrivando in questi giorni dalla germania i woofer da 16,6 quelli con il bordino in gomma quelli belli quelli fatti bene e siccome che non è ordinati 100 direttamente in fabbrica ma mi arrivano me ne arriveranno una trentina da un mio amico in germania purtroppo i costi sono più elevati e saranno riservati a una nicchia sicuramente più blanda di persone perché saranno attorno ai 100 euro spedizione compresa perché giustamente quando ne compri 4 5 cartoni di quelli lì e ti arrivano direttamente dalla fabbrica hanno un costo quando invece ne ordini una trentina da un amico solo perché ti fa il piacere di darteli e devi pagare le spese di spedizione dalla germania all'italia inevitabilmente i costi maggiorati sono maggiorati di un 25 30 per cento comunque a chi li vorrà bene a chi non li vorrà io comunque anche se mi tengo in casa 25 30 woofer da 16,5 col bordo in gomma eccetera eccetera non mi metto a piangere anche perché di woofer fra woofer trombe una roba l'altra sotto ne avrò un capannone pieno dunque un pianale da un metro per 50 alto 30 con un po di autopalanti in più o un pianale da un metro di larghezza per 50 con qualche woofer in meno non mi cambia la vita insomma perché ne ho già 75 80 di quei ripiani lì pieni di roba quindi non mi pongo tanti problemi bene allora sotto i 200 euro spedizione inclusa due trombe due woofer da 30 centimetri potenza dichiarata 125 watt rms completo di bobina solo per il woofer perché giustamente la tromba piezo ha già i suoi condensatori e tutto quello che serve dentro e al limite fornirò una resistenza da mettere in serie tra il più e la tromba piezo una resistenza supplementare in modo da attenuare la vivacità della tromba perché la tromba effettivamente insomma rende qualcosina quindi a seconda del piacere del gusto personale di ascolto o di come desidera uno ce la può inserire come non ce la può inserire a meno che dopo l'ingresso qua ci mettiate un deviatore più zero e più uno zero più due in modo da mettendo zero più uno lo fate andare in diretta invece abbassando l'interruttore inserite la resistenza e automaticamente cala come nelle casse come per esempio le gbl l' electro voice da concerti oppure anche le altec ma tante casse hanno quell'interruttore lì con delle resistenze di attenuazione insomma non è che sia una novità del 2024 è una novità del 1950 ancora quella lì di avere le attenuazioni quindi non scopriamo nessuna acqua calda niente ragazzi qui ci siamo visti una piccola panoramica qui c'è il bel sole stamattina e ragazzi meno male va qui siamo martedì 14 o 15 quello che è insomma di ottobre e effettivamente c'è un certo calore i pesci qua hanno appena finito di mangiare e dopo più tardi provvederò a dargli da mangiare un'altra volta e questi qua sono i classici e canonici due vie meno 6 meno 12 e questo qui invece è un meno 6 meno 6 praticamente woofer e tromba e questi qui hanno anche il sensore di segnalazione quando va in clipping perché questi qui li ho fatti per uno ne ho fatti una trentina per una persona e qui c'è un cavallotto in cui metterci una eventuale resistenza per attenuare il twitter perfetto perché tirando via il cavallotto si prende la resistenza si piegano in giù gli alberini si infilano dentro e si avvitano basta che io uso niente di niente di particolare insomma cioè oltretutto lui avendo inserimenti così li ho fatto ho dovuto farli ancora a innesto rapido tira via la spinetta e mette mette la spinetta e tira via la spinetta e questo qui è amphenol sono sistemi amphenol ecco fatto bene ragazzi statemi bene finiamo e adesso è quasi mezzogiorno non ma mai è come dicono qua